Locali accoglienti, confortevoli, riscaldati e dotati di comfort per mamme e bambini. E il centro vaccinazione è realizzato all'interno del poliambulatorio centro di via Turrisi Colonna a Palermo, al quale potranno rivolgersi a partire da oggi, tra gli altri, anche gli utenti che prima si recavano al presidio biondo di Via Lazzaro, in un edificio non di proprietà dell'ASP che non presentava più le condizioni per proseguire il servizio. Sarà aperto tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30. Dotato di struttura d'accesso anche per i disabili, il centro vaccinazione di via Turrisi Colonna si trova a pieno terra dell'edificio, nella zona immediatamente adiacente al parcheggio interno. Per i genitori che si recheranno nella struttura a far vaccinare i propri figli, verranno ogni giorno riservati 10 posti auto per il turnover degli utenti. L'ambulatorio è facilmente raggiungibile anche utilizzando la metropolitana, la cui stazione Lolli dista 200 metri dall'ingresso del centro. È stata individuata, grazie al contributo della direzione sanitaria e dai direttori responsabili delle strutture sanitarie interessati, la soluzione più idonea per mettere fine ai disagi degli utenti che si recavano nella struttura di Via Lazzaro, ha spiegato il commissario dell'ASP di Palermo, Daniela Faraoni. È un primo intervento che ci consente di dare una risposta in tempi brevi alle legittime richieste dei genitori che afferivano in quel centro. Insieme al Dipartimento di Prevenzione si stanno valutando gli interventi necessari, sia strutturali che organizzativi, per garantire in tutti i centri vaccinazione un servizio adeguato rivolto a neonati e bambini. Sono complessivamente 64 i centri vaccinazione dell'ASP di Palermo, di cui 12 in città e 52 in provincia. Grazie.